Procediamo. Cercheremo di guadagnare il più tempo possibile. Grazie mille. Noi teniamo d'occhio amici a Carol e ci occupiamo di quel cancello. Cazzo, forse ce la facciamo davvero. Ascoltate, siamo armati a live nel Lightboard. Però lo sta bucando, ci vorrà un uomo infattibile. Voi a che puttasiete? Il celluletto è il segnale. Stiamo cercando di un'intenzione locali che va. Ci serve più tempo. Non siamo più a grattarci. Guadagneremo il più tempo possibile. Resistete. L'hanno preso. S'hanno preso. Ne arrivano ancora. Ce la possiamo fare. Sì, la milica che ci stava dicando contro di tutto. A quel tanto. Vedo. In piedi. Il resto, signore. Sì, va tutto bene. Cazzo, ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo fatti a pezzi. Ci siamo riusciti. Sol, Mitch, torniamo da voi. Ben fatto. Quello spettacolo potete sicuramente contare su un posto tra i pazienti. Dobbiamo dividerci. Sola ragione. Karen, copriteci le spalle. Ok. Mitch, tu vieni con noi. Sì, signora. Non perdiamo tempo, allora. Andiamo. D'accordo. Attivo l'autopilota e mi disconnetto. Ok. Tutto bene? Mi sembri silenziosa. Questo piano. Tutto quanto. Non era una buona idea. Non è stata una tua idea. E di chi, allora? Mia. È stata un'idea mia. Sono io la responsabile. E se avessi saputo come sarebbe finita? L'avrei fatto comunque. Per qualunque membro. Sol mi ha detto che hai portato rinforzi per le Mikoshi. Qualcuno da fuori. Mhm. Alt. E... chi sarebbe? Alt è un'IA. Rinnegata. Ti fai aiutare da un'IA? Beh, ma a questo punto non mi stupisce più niente. È l'unica in grado di penetrare nei sistemi dell'Arasaka. E non riusciremo a entrare nel Mikoshi senza di lei? Beh, di sicuro non ne usciremmo. Ti fidi? Di questa... Alt? Sì. Ci aiuterà. Perché? Sei preoccupata? Mi fido di te. Basta questo. Quindi, confido nel fatto che questa Alt non ci giochi brutti scherzi. Funzionerà. Deve funzionare. Non può andare male proprio ora. 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 Ok, ci siamo. Quanto manca alla Rasaka Tower? Non molto. Da qui dovrebbe essere tutta in discesa. Merda. Li vedi? Credo che qualcosa non vada. Ormai dovresti esserci abituato, Sol. Raramente le cose vanno come previsto. Non abbiamo idea di cosa ci attende all'interno. Abbiamo bisogno di te. Beh, al momento so... Ragazzi, qual è il problema? Carol e gli altri. La milite che si è attivata per tagliarli fuori. Non dureranno a lungo in quel cantiere. Cristo santo. Prendo il Panzer. Gli serve tutto l'aiuto possibile. Sei impazzito? La risposta è no! Stanno per scatenare l'inferno, Mitch. Non puoi pilotare il Panzer da solo senza friggerti quel cazzo di cervallo che ti so... Hai un'idea migliore? Sono la mia famiglia, Pan. Non li abbandonerò. Sol, tu sei d'accordo? V? Qualcuno lo faccia ragionare! V? Non hai proprio niente da dire. Mitch ha ragione. Noi tre abbiamo comunque una possibilità. Ma senza di lui, loro non ne hanno nessuna. Sei sicuro di farcela? Sol! Stiamo parlando di suicidio bello e buono! Pensate a voi. Mitch! Ti uccideranno! Ci vediamo dopo. Sol! Carol! Lui... Sto venendo da voi! Loro lo... Dobbiamo fare il momento che si avanza. Voi due salite a vedere che cosa l'hai preso. Allora vi seguirò e vi coprirò le spalle. Vì. Andiamo. Mitch. Sono qui! Sono in salvo! Fa' attenzione! Il motore si è surriscaldato quando la tripella ha raggiunto il cemento. Vale anche per voi. Dovremmo disattivare il blocco di emergenza bypassandolo. È il momento della verità. D'accordo, ci siamo! Sì, chiudo! Prego, basta, stronzate. Ti prego! Passate in modalità manuale. Bene. Non preoccupate. Dalle più potenti. No! 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 Sta scavando! Credo che... Panam! Panam, va tutto bene! Panam! Rispondi! No, no, Panam! Sono qui. Solo un po' ammancata. Ho visto più peggio. Panam! Per un attimo ho temuto che... Non preoccupartevi. Va tutto bene. Sol! Tunnel e sgombro. Notizie d'amici? Ancora niente. Cazzo. Lo sapevo. Sarà un problema di comunicazioni. Su. Falla finita. Cosa sono questi? Ho visto una cosa semplice. Per chi? Motori sesbici. Proteggono gli... Cioè siamo ancora sotto le fondamenta? Ok. Dobbiamo trovare il modo di seguire. Pesci allo scoperto. Individuazione sospetto. Esci allo scoperto. Individuazione sospetto. Esci allo scoperto. Individuazione sospetto. Siamo a battere i drop? Vengiamo a carola. Prepariamoci. Io ho l'utilizzazione. Sono finito. Sono finito. Siamo a battere i dropi. Non c'è ti amo. No c'è capitolo. Tutti. Non c'è. Undo? Non c'è. Acqua. No c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È incredibile che ci troviamo proprio dove esplosa la bomba dell'attentato. Quindi questo posto non dovrebbe essere pieno di radiazioni? Chi lo sa? Magnifico. Vi! Vi! Sta avendo un'altra crisi! Vi! Stai bene? Vi! Tutto sotto controllo. Qualcuno sa dove siamo. Diamo un'occhiata in giro e lo scopriamo. Vedo il suo terminale. Prima dobbiamo occuparci delle guardie. Vi, occupati delle sentinelle. In silenzio, se puoi. No mi piace. No mi piace per niente. Credi che sia qualcosa di serio? Piano e furtivi. Hanno un'intera squadra qui. Un convoglio di sicurezza, forse. Ok, è un po' più difficile di quanto pensassimo. I loro sistemi avranno rilevato vibrazioni sotto l'edificio quando abbiamo scavato. Sono tutti dall'edita. Che significa che siamo tagliati fuori da tutti i passaggi. Ci sono dei punti d'accesso. Me ne serve uno subito. Sto cercando, un secondo. Ne ho uno, non è lontano. Potrei collegarti da lì. Ok, spero che ci sia una porta anche per lo sciardo di Halt. Invio la strada più breve. Ma prima dobbiamo annullare l'isolamento. Restate nascosti. Nessuno deve sapere della nostra visita. Codice rosso attivato. Tutto il personale rimanga dove si trova fino all'interruzione dell'isolamento. Già un po' più beho. Nessuno deve sapere della nostra visita. E' obile nel codice! Tenete gli occhi aperti! Struosi! Finché non si fa sul seno! Merda! Ci hanno beccati! Ingoi a piombo a stetsu! Ha saluto l'attucinato! Tenete una pietà! Casi incanto! Abbiamo un cecchino! Merda! Ricarico! Impressionante! Devo metterlo! Un uomo a terra! Prendete la sua posizione! Un uomo a terra! Dove cazzo stai mirando? Dove cazzo stai mirando? Non ce la fanno più! Non ce la fanno più! Non ce la fanno più! Nah, cazzo stai mirando! book Prepariamoci! Ok, sono qui. Forza, mezza seghe! Alta. Lo shard è dentro. Sì. Quanto tempo ti serve? Già fatto. Sì, cazzo! Ha funzionato! Quindi possiamo proseguire? Per il Mikoshi? La strada è aperta. Vieni, Palan. Facciamola finita. Qui? 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 V Sol Lo sento anch'io C'è qualcosa che non va È il silenzio Nessun altro ha i brividi Qui è successo qualcosa Lo scopriremo presto Siamo vicini al Micos Uno dei loro Morto Il loro drone mi si è rivoltato contro Che cazzo succede? È alta Ci sta aprendo la strada Spero solo che non finiremo per trovarcela contro Hanno provato a scappare L'auto è diventata una trappola Sembra che la tua alta non faccia prigionieri È un codice nero Un codice nero Corretta Presto Mi soppro io La guardia ha cercato di farvi evacuare Civili Dovevano morire Ok morally Di Intentare Quattro Sì. Sì. Forse ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Solo pochi passi ti separano dal Mikoshi. Sembra che finalmente avrai la tua occasione. Siamo con te, Evi, fino alla fine. Gli Aldecaldo mantengono sempre la parola. Non può essere molto lontano, no? Sto per vomitare. Manca la stanza dopo la partizione, poi siamo al nucleo. Puoi farcela. Cazzo! Aldecaldo! Prezzati! Cazzo! Audace. Idiota. Cazzo! Sei costruita. Cazzo! Cazzo! Vieni qui! Vieni. No! Non rimandare! No. No! No. No! No! A me che c'è da me! Diviscara però il giornaglio d'arche radio. La sopravvivenza è il fatto. Non rimarrà più. Hai deciso! Ed era inutile! Dovete! Sono contatto! Perfetto un seccino, occhia! Ti abbraccio! Avviene il prodotto! Abbiamo un seccino! Non uscire! Vedo un seccino! Oh, sì! No! 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 Non uscire! Vedo un seccino! Oh, sì! No! Non voleva partecipare all'assalto! La brolla! Ma non proviene tutto! Avvete il volante! Il cannone è più grosso, no? Partiamo un seccino! Di poco! Parate! Conte! Non ci sono! Non ci sono! Non ci sono! No! 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 Eccarico! Diamante! Grazie a tutti. 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 Riccardo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.